Le imprese Umbria stanno per arrivare ad un punto di non ritorno. L'esasperazione determinata dal caro Bollette si trasformerà il prossimo 5 settembre in Umbria per iniziativa di Confcommercio ad una vera e propria reazione con iniziative che andranno a coinvolgere le piazze di ben 12 città della regione. All'insegna dello slogan non spegnete l'Italia, non spegnete il futuro. Alle 11 gli imprenditori, non solo del terziario ma di tutti i settori e i cittadini, sono chiamati a manifestare in contemporanea esponendo cartelli con gli aumenti esorbitanti delle bollette. Previsto anche un gesto simbolico, ovvero bruciare in piazza le copie delle bollette stesse. Sempre nella giornata del prossimo 5 settembre alle 11.30 il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, spiegherà a Perugia le drammatiche conseguenze del caro energia sull'economia con un'apposita conferenza stampa e con collegamenti dalle varie piazze e testimonianze degli imprenditori. La protesta proseguirà poi con lo spegnimento delle luci, delle vetrine e delle insegne nelle ore notturne dalle 20 di lunedì 5 settembre fino a venerdì 9. Le città sedi delle manifestazioni programmate sono Perugia, Ternia, Sisi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Foligno, Gualdo, Tadino, Gubbio, Marciano, in Valnerina con la serie da definire, Spoleto e Umbertide. La crescita inarrestabile del costo dell'energia che si sta abbattendo sulle imprese del terziario di mercato e dei servizi, come viene spiegato dallo stesso presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, mette a rischio la prosecuzione delle attività di tantissime imprese regionali nei prossimi mesi con ripercussioni a catena sull'occupazione. Le conseguenze non solo sulle economiche ma sociali, considerata anche l'inflazione galoppante. La crisi sta bloccando comparti strategici per la crescita, la competitività e il futuro dell'Italia e dell'Europa. Si sta uscendo a fatica dalla pandemia per imboccare un tunnel, afferma Mencaroni, quasi peggiore.